Ciao, buonasera a voi. Anche questa sera ha capito l'importanza di avere una panchina lunga e il fatto che non ci siano probabilmente titolari e panchinari perché anche chi gioca di meno viene chiamato in causa risponde presente come per esempio oggi Alexis Sanchez. Se ci fosse direbbe i campioni fanno così. È stato bravissimo come tutti i suoi compagni, l'avevo detto ieri, sta continuando a sedere la sua condizione. Stasera come tutti gli altri ha fatto un'ottima gara e sono contento che abbia segnato perché se lo merita per come sta lavorando. Il Salisburgo dal primo al secondo tempo è passato dal 4-4-2 a un 4-2-3-1 forse per essere un po' più offensivo cercare di mettervi in difficoltà. Per un attimo ci è riuscito, vi aspettavate un cambio modulo per appunto mettervi in difficoltà o cercare di farlo. Ma sai Salisburgo solitamente gioca 4-3-1-2 però anche nell'amichevole di precampionato aveva cambiato modulo, l'hanno cambiato anche durante la partita, hanno tanti giocatori, insomma ci aspettavamo con Ate ha giocato Simic, è una squadra ricca di talenti, giovane che corre e quindi bisogna essere molto concentrati. Oggi Lautaro Martino ha avuto anche oggi anzi un grande atteggiamento da leader, forse l'anno scorso quando non segnava si arrabbiava un po', invece oggi era praticamente in qualsiasi parte del campo, in difesa, costruzione dell'azione offensiva, anche segnare, anche se poi è stato annullato il gol. Quanto sta crescendo Lautaro Martino da questo punto di vista? Tanto, cerca sempre di dare tutto in campo, mi dispiace che stasera chiaramente aveva segnato, c'era un fuorigioco di due centimetri di frattesi che aveva fatto un ottimo assist e chiaramente ci avrebbe fatto soffrire meno negli ultimi 12 minuti. Anche lei chiedo l'importanza di questa vittoria anche per affrontare le prossime sfide che sono importantissime. È chiaramente una vittoria importante ma ci manca ancora qualcosa per il girone perché è un girone equilibrato e quindi ci aspettiamo due trasferte molto insidiose quindi dovremo fare del nostro meglio. Grazie a voi, ciao.